Il modo più veloce per diminuire il rischio in maniera drastica, immediato, sarebbe quanto abbiamo due giorni fa chiesto telefonicamente al Vice Sindaco di limitare l'accesso e il transito attraverso il casello di Multedo, di Pegli diciamo meglio, ai mezzi superiori a un certo tonnellaggio. Perché la problematica qui è drammatica perché come probabilmente durante questo stesso servizio passano delle autobotti che sono obbligate ad andare contro mano, bloccano il traffico e soprattutto creano i problemi che se la regia può inquadrare quella zona dove è morto quel povero signore c'è un vicolo cieco. Vediamo in diretta cosa succede quando arriva un mezzo pesante dall'autostrada, percorre questa rampa, perché altrimenti la curva non riesce a farla. Vedete già, là c'è un pedone, è chiaro che l'autista in quel momento non può vedere il pedone. Guardate come fa contro mano tra l'altro per potenzione la curva. Perché se lo vede, vede cosa succede, deve andare contro mano per poter entrare alla Carmagnani. Ora, questa situazione è risolvibile in maniera immediata con un'inibizione di transito di questi mezzi a questo casello.